M. Roberto Taurino il bitonto batte il Francavilla per 2 a 0, torna solitario in vetta alla classifica parte bene il 2020 di Neroverde. Sì, parte bene. Era quello che volevamo, cioè tornare a fare tre punti e riprendere il discorso da dove l'avevamo lasciato, cioè la partita con l'Alta Mura. Abbiamo fatto una partita a Gagliarda, una partita che sapevamo essere complicata perché comunque il Francavilla è una buona squadra, però devo dire che sotto l'aspetto all'atteggiamento siamo stati compatti, siamo stati tosti, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo trovato il vantaggio, abbiamo raddoppiato e abbiamo concesso veramente poco. Quindi sotto l'aspetto squadra abbiamo fatto bene. Proveremo a migliorare, proveremo soprattutto nell'ultima parte a gestire un po' meglio alcuni palloni e forse si poteva anche chiudere con il 3 a 0 perché quando loro hanno rischiato un po' di stare con tanti uomini sopra la linea della palla c'erano un po' più spazi e si potevano sfruttare meglio, però siamo soddisfatti di questo risultato. La scelta di Bolognese a centrocampo per impiazzare lo squalificato Marsili, 5 under anche se per te Bolognese un under proprio non è? Sì, è un 99, lui e Figliola ormai sono già due o tre campionati che giocano in pianta stabile in questo girone, in questa categoria, quindi sono ormai dei giocatori che hanno acquisito una certa esperienza, quindi non li considero più under. Ho fatto questa scelta semplicemente una scelta tattica dovuta alle qualità del giocatore, ho preferito tenere un vertice basso bravo nel palleggio e bravo nei tempi di gioco e mantenere Biason da interno. Potevo mettere Biason basso e alzare Vacca a mezz'ala, però ho preferito questa scelta perché mi aspettavo una partita da parte loro molto compatta e quindi preferivo avere un giocatore che ha grandi tempi di gioco come Simone e sinceramente ha fatto anche bene su un campo veramente complicato per lui perché è un giocatore che deve ricevere tanti palloni e che deve giocare tanti palloni e la palla oggi sinceramente non sempre rimbalzava nel modo migliore, quindi non è facile lì in mezzo giocare a uno o due tempi. Però il ragazzo l'ha fatto bene, l'ha fatto con personalità, si è sacrificato anche in fase di non possesso, ma lo sapevamo, per noi non era un rischio mettere dentro Simone, sappiamo, noi lo vediamo, si allena sempre bene, sta avendo poco spazio per chi ha davanti i giocatori importanti, ma è un giocatore su cui noi contiamo molto. Hai già dato uno sguardo alla classifica dopo il triplice fischio finale? No, ma la classifica penso che la guardate più voi e i tifosi, è giusto che sia così. Noi sappiamo che ancora il percorso che ci attende davanti è lungo ed è ancora in salita, quindi cerchiamo di sprecare meno energie possibili a guardare quello che fanno altri. Abbiamo la fortuna di stare davanti e quindi di pensare soprattutto a quello che devono essere le nostre partite. La classifica penso che la guardino più le squadre che stanno dietro perché devono recuperare punti e quindi devono sperare nei passi falsi delle battistrata. Noi dobbiamo solo concentrarci a provare a fare più vittorie possibili e più punti possibili.